Sono Guido Cristini, sono il coordinatore delle attività di ricerche di marca che è questa esposizione per Bologna Fiere. Oggi presentiamo un po' i risultati di una serie di ricerche che abbiamo realizzato come Università di Parma e che oggi si concentrano sul tema del co-packing, cioè sul tema dei fornitori industriali della marca commerciale. Il mio intervento di oggi in particolar modo evidenza due aspetti. Il primo aspetto attiene alle grandi opportunità che hanno le piccole e medie imprese italiane per produrre per conto dei distributori. Ci sono spazi considerevoli che nascono dal fatto che la marca commerciale cresce a un punto percentuale all'anno e quindi le attività che possono svolgere i nostri operatori sono quelli di profilare l'offerta nei confronti delle grandi insegne. Quindi grande possibilità di crescita in diversi mercati e in diversi settori. Il secondo aspetto invece verte sulle relazioni verticali tra questi co-packer e i distributori. L'idea o diciamo la tesi che sostengo è che la produzione per conto deve diventare un processo di medio-lungo termine. Laddove si richiede l'innovazione, laddove si richiede la certificazione, laddove si richiede la qualità e tutte le dimensioni valoriali dei prodotti è evidente che la relazione, ripeto, tra co-packer e distributore non può che essere di lungo termine. È difficile avere qualità, è difficile avere certificazioni di tutti i tipi, è difficile avere innovazione se la relazione avviene nel breve termine. Quindi con le relazioni tipiche delle aste online piuttosto che delle relazioni non continuative. Allora questa tesi che è raccontata così, come dire, è di tipo qualitativo, poi naturalmente la ricerca viene dimostrata con una serie anche di elementi quantitativi che derivano dalla intervista ad alcune decine di co-packer che naturalmente espongono a marca e che sono un po' il patrimonio informativo della nostra ricerca.